Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Mario Cerrito e oggi andiamo a fare un allenamento insieme. Ma prima andiamo a fare la nostra colazione insieme, quindi sto facendo bollire dell'acqua per farmi un tè verde. E insieme al tè andrò a mangiare uno yogurt greco e gli metterò anche due fette di pan bauletto integrale con un po' di miele. Ecco qui la mia colazione, tè verde detainato, una scatola di yogurt greco alla frutta e poi andiamo a mangiare due fette di pan bauletto con un po' di miele. Ciao ragazzi, la mia colazione ha fruttato 340 kcal, la mia prima colazione, con 58 grammi di carboidrati, 18,7 grammi di proteine e 2,8 grammi di grassi. Ok, la prima colazione è stata completata, adesso vado a fare un po' di briefing giornaliero su quelle che sono le mie e-mail, i miei appuntamenti. Quindi computer alla mano e soprattutto aggiustiamo questa macchinetta qui, che è molto importante aggiustarla. Perché le batterie si scaricano continuamente, quindi ne ho acquistate due online su Amazon e le devo cambiare. Ok ragazzi, sono riuscito a smontarla del tutto, come vedete. E' tutta fatta a pezzi completamente. Sono riuscito a montare le nuove batterie che avevo qui. Qua ci sono quelle vecchie, la macchinetta parte, l'ho già provata e adesso devo rimontarla. Ok ragazzi, la macchinetta è stata rimontata, in tutto e per tutto. Bene ragazzi, adesso come è giusto che sia, mi spettano le faccende di casa. Ok ragazzi, mi sono risalito già parte dell'attrezzatura, mancano solo i due bilancieri. Ok ragazzi, l'inizio di quello che diventerà una home gym è qui. Diciamo che farsi tre piani sei volte andate al ritorno ritengo che sia un ottimo riscaldamento. Quindi adesso iniziamo il nostro workout. Anche se manca uno dello strumento che mi serve di più, ovvero un manubrio che dovrebbe arrivarmi oggi, ma in attesa io comunque mi alleno. Poi quello lo utilizzeremo nei prossimi esercizi, nei prossimi allenamenti. Why you mad? I got a bag bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, uh, I said, damn, it's gonna be a long night. Whoa. Yeah. Let's go. Left, left, left. I tell shorty, drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money, making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot be me, so I call them acapella. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Woo. You know. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Empty. JPB. You already know, baby. Yeah. I said, I already done it. Everything you wanna do, I already, I already. Uh. You know that I, you know that I, yeah. I said, you know that I, yeah, yeah. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. It's gonna be a long night. Yeah. This is supposed to be a long night. ok ragazzi allenamento completato per fortuna che sono vestito comodo e quindi occhio cappellino maglietta e tuta vxsgymwell.co.uk mi raccomando ragazzi sono dei vestiti per allenarsi comodissimi elasticizzati perfetti per l'allenamento non si bagnano traspirano perfettamente la tuta anche se un po più pesante non lascia segni di sudore niente quindi ottima sia per una passeggiata una camminata in tenuta più sportiva sia per la corsa all'aperto sia per l'allenamento a casa per l'allenamento in palestra quando riapriranno quindi mi raccomando ragazzi vxsgymwell andate sul sito acquistate con il mio codice sconto mario c10 tutto maiuscolo per avere il 10% di sconto su ogni cosa che acquistate nel sito quindi mi raccomando ragazzi è importantissimo qualsiasi cosa acquistate dal cappellino alla maglietta al pantalone di tuta alla felpa qualsiasi cosa sia uomo che donna potete acquistare la col 10 per cento di sconto quindi mi raccomando vxsgymwell.co.uk ok ragazzi adesso è il momento del secondo passo della giornata ovvero il mio spuntino lo andrò a fare con dei fiocchi di latte e del salmone affumicato intanto ecco qui il mio allenamento di 50 minuti con 194 kcal bruciate una frequenza cardiaca massima di 141 battiti per minuto e 105 è la frequenza media e questo era il mio allenamento mentre il mio spuntino andiamo a vedere nella mia applicazione yazio è di 339 kcal abbiamo 47 grammi di proteine 2 grammi di carboidrati e 15,9 grammi di grassi gnam gnam questi sì che sono buoni oh yes bene ragazzi mi appresto a mangiare il mio spuntino mi raccomando non cambiate video restate sintonizzati e dai ragazzi adesso siamo pronti per il pranzo ma siamo pronti anche per questo outfit oh my god vogliamo parlarne questo bellissimo orologio daniel wellington che mi è stato regalato da mio cugino per il suo matrimonio poiché sono stato il suo testimone ma niente ragazzi adesso vado a fare pranzo ci saranno tortellini con un brodo vegetale quindi un po di verdura e un po di carboidrati dobbiamo assumere anche più tardi poi vediamo cosa mangiare nel frattempo aspetto ancora il pacco che è partito da carini alle 11 quindi dovrebbe arrivare tra qualche ora speriamo che arrivi presto così nei prossimi video avremo anche il mio manubrio detto ciò buon pranzo e ragazzi ecco il pacco è arrivato quindi apriamolo insieme sì ecco qui il mio manubrio bellissimo stupendo 12 chili e mezzo si poggiano qui si alza questa levetta si sposta ed è sigillato e si alzano tutti insieme sono veramente molto 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 contento che è arrivato questo manubrio se tutto va bene non ci chiudono e restiamo aperti il mese prossimo ne prenderò un altro così ne ho due e posso fare tutti gli esercizi già con questo potrò fare tanti esercizi e più avanti proverò a prendere invece due dischi da almeno 10 chili per i bilancieri ma nera tale che già posso fare anche qualche esercizio in più vedremo poi più avanti ancora se riuscirò a prendermi una barra per trazioni direttamente da saldare al muro non da mettere sulla porta quindi qualcosa di più rigido qualcosa che più duraturo vediamo se riesco a fare questa home gym anche perché la puzza di lockdown una legge nell'aria quindi intanto queste cose vanno abbastanza bene quindi sono contento che è arrivato sono contento che ho ripreso ad allenarmi ho ripreso a fare i video speriamo che continuo così bene ragazzi adesso sono con la vestaglia ho sbrigato nelle commissioni ho servito tre clienti e adesso mi sto guardando il mio film underwater ho fatto uno spuntino come uno yogurt spero di riuscire a perdere i 4 chili che ho preso perfetto ragazzi anche la mia cena è stata fatta con un po di di salsicce di funghi ripieni per un totale di 2021 kg calorie mangiate e 355 bruciate ho fatto un po più il pieno di carboidrati non tanto di proteine sono andato un po fuori di grassi ma mi sento abbastanza soddisfatto l'acqua l'ho bevuta due litri sicuramente purtroppo peso 79 kg come vedete qui e quindi devo iniziare a perdere un po di peso ma va bene così vediamo nei prossimi giorni cosa cosa accade che ragazzi adesso dormire anche se non è tardissimo ma se non vado a letto presto domani mattina non mi sveglio e mi aspetto una settimana di lavoro ringraziando a dio riesco ancora a lavorare tutto questo tra un busto mondiale quindi che dirvi grazie per aver visualizzato il mio video iscrivetevi al canale mettete mi piace e condividete sui social seguitemi su facebook nella pagina marice rito ed esser su instagram nel mio account marice rito official e soprattutto non perdetevi i miei video quindi guardatevi anche quelli precedenti se non ne avete già visti e ogni vostra visualizzazione sicuramente mi permetterà di far crescere il canale e di avere più visualizzazioni possibili grazie e alla prossima